Per quanto riguarda invece Stefano Meonga all'interno dello spogliatoio, che tipo sei? Calmo, io sono un ragazzo tranquillo, sono sempre calmo. Gli altri gli possono dire anche che io non parlo tanto, gli dicono anche che sono timido a volte, però sono così. E chi è invece all'interno dello spogliatoio il contrario di Omeonga? Omeonga è timido, chi è invece il più? Ardemani, chi sta a mio lato e chi... mamma mia, fa un casino.